La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha confermato l'ergastolo per Giovanni Shamm, il 39enne, che nell'aprile 2023 uccise la compagna Sara Ruschi e la madre di lei, Brunetta Ridolfi, nel loro appartamento di via Benedetto Varchi, un delitto commesso davanti ai figli della coppia all'epoca di 16 e 2 anni. La legale del 39enne, l'avvocato Maria Fiorella Bennanti, durante il processo d'appello aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria in relazione ad una perizia psichiatrica da risporre e di far cadere l'aggravante dell'omicidio in ambito familiare, sostenendo che la relazione tra Giovanni Shamm fosse ormai terminata. La Corte però ha rigettato entrambe le istanze, ribadendo la condanna all'ergastolo già emessa in primo grato ad Arezzo lo scorso 2 dicembre. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 90 giorni, solo allora la difesa potrà valutare se ricorrere in chassazione. Nel frattempo, Giovanni Shamm, presente in aula, resta nel carcere di Prato. Il delitto fu consumato nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023. Quella sera Sara e il 39enne si scambiarono una serie di messaggi degenerati, poi inoffese. Una ventina le coltellate inferte alla donna, tre quelle alla madre. Giovanni Shamm, dopo l'omicidio, uscì dall'abitazione e raggiunta una cabina telefonica, chiamò la polizia.